Eurac Science Café, 5 giugno 2008, malattie in e out, farmaci tra ricerca, mercato e mass media. Per cui ringraziamo anche lo staff della biblioteca che ci ospita. Io devo fare alcune precisazioni in merito all'andamento della serata. Come tutti gli incontri di Eurac Café, di Science Café, si svolgeranno nella lingua prevalente dei relatori, però ciascuno di voi, quando poi sarà il momento di fare le domande, potrà naturalmente esprimersi nella propria lingua. La serata prevede due momenti, una parte in cui saranno i nostri relatori a raccontarci quello che la serata ha proposto a loro e a noi, e poi ci sarà una parte in cui voi stessi potrete porre delle domande ai relatori. Il tutto dovrebbe durare fino intorno alle 22, dopodiché naturalmente i relatori sono comunque a disposizione per vostre curiosità o domande che vogliate porre eventualmente privatamente o in separata sede. Durante tutto il periodo della conversazione il bar, che qui sulla vostra destra, è in funzione, per cui potete andare a dissetarvi nel caso. E devo dire anche esplicitamente che fino alle 22, insomma, paghi uno, prendi due. Per cui siete anche incentivati a questa attività, diciamo, di accompagnamento all'ascolto. Questa serata, come vedete, verrà documentata sia dal punto di vista video che dal punto di vista dell'audio, per cui ci sarà poi la possibilità di rivederla su internet, all'indirizzo internet che appunto va sotto il sito di Eurac, che avrete modo di trovare, per cui se verrete ripresi, verrete anche visti su internet a livello planetario. Visto che siamo qui in biblioteca, ricordo che tutte le pubblicazioni dei relatori sono presenti qui alla biblioteca e sono anche naturalmente consultabili. La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Queste sono le precisazioni che dovevo dare prima dell'inizio della serata, che partirà tra poco. È dedicata in particolare alla genetica, perché in Eurac esiste un istituto di ricerca di medicina genetica e la serata di quest'oggi si intitola Malattie In e Out. Cioè cercheremo di riflettere, anche dal punto di vista del mercato, perché alcune malattie vengono studiate più di altre, perché ci sono medicinali per alcune malattie, mentre invece per altre, che sono magari ugualmente gravi, ma forse meno diffuse, questi medicinali non ci sono. E lo faremo con alcuni ospiti che sono già naturalmente accomodati. Andiamo in ordine, vicino a me abbiamo Massimiano Bucchi, che insegna Sociologia della Scienza all'Università di Trento, che è autore di molti libri che si interrogano proprio sulla questione, sul rapporto tra scienza e società, sul modo di comunicare la scienza e la società, e collabora con alcuni quotidiani e riviste nazionali. Poi abbiamo Antonella Pirazzoli, che è responsabile del settore genetica clinica della ditta GlaxoSmith &Kline, che molti di noi conosceranno perché magari hanno visto questo marchio sulle medicine che eventualmente prendono, e che quindi si occupa direttamente dell'applicazione e della ricerca genetica nei farmaci, nell'invenzione e nell'utilizzo dei farmaci. E poi abbiamo il dottor Rudolf Schoenüber, che è invece il primario della divisione di neurologia all'ospedale regionale di Bolzano. Per cui diamo benvenuto a tutti e tre, li accoglierei anche un piccolo applauso, visto che siamo in apertura. E questa romperei il ghiaccio proprio con Massimiano Bucchi, che si occupa di comunicazione della scienza. Oggi parleremo di genetica, sulla quale molti di noi abbiamo idee un po' confuse, perché appunto ci immaginiamo che sa che cosa. Allora io chiederei proprio a Massimiano Bucchi, da cosa bisogna guardarsi quando si inizia a porre ad un pubblico interessato, come quello che è venuto qui questa sera, nel momento in cui si cerca di raccontare la genetica. Cioè il rischio da evitare, quello che non bisogna fare mai nel comunicare un contenuto anche complesso, come è la genetica. Adesso vorrei citare il libro di un genetista francese che era intitolato Gli impostori della genetica. E dire la cosa più banale, cioè che è chiaro che un tema che ha avuto molta presa, ma non solo nell'opinione pubblica, direi proprio nel discorso pubblico di lungo periodo, è quello, perdoneranno i più esperti il termine un po' semplicistico, del determinismo genetico, del fatto che appunto studiando i geni poi effettivamente si riesca a dire tutto e a predire tutto di una persona. Questa è un'idea che in realtà qualcuno dice preesiste allo stesso sviluppo della genetica. L'idea che prima ancora nel sangue delle persone ci sia scritto il loro destino. C'è una bellissima frase che Richard Lewontin è andato a ripescare in un romanzo di Émile Zola, che si intitola La fortuna dei Rougon, che nel 1871, quindi 27 anni prima della riscoperta delle leggi di Mendel, scrive l'eredità alle sue leggi così come la gravitazione, descrivendo le vicende di questa famiglia. Quindi questa idea appunto che ci sia qualcosa che ci tramandiamo e che sia così forte da condizionare più delle circostanze, degli eventi, dell'ambiente, del nostro destino, è un'idea molto potente nella cultura europea, forse anche occidentale, degli ultimi due secoli. Detto questo, però, che ripeto, forse è anche abbastanza prevedibile, io vorrei aggiungere qualche elemento appunto di contesto, prendendola apparentemente un po' alla lontana, ma spero che si capisca quello che voglio dire. Proprio per capire appunto il discorso sulle malattie, sulle malattie genetiche, in che scenario si colloca e come questo scenario si sia trasformato. Vorrei parlare essenzialmente di comunicazione. Allora, cito solo un dato che spero sia abbastanza intuitivo. Se noi andiamo a guardare, noi per esempio abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata di come il Corriere della Sera, quindi il più importante quotidiano italiano, negli ultimi 50 anni ha coperto le questioni, in senso lato, di scienza, e la stessa cosa per esempio hanno fatto dei nostri colleghi inglesi sulla stampa quotidiana inglese, e quello che viene fuori è che se noi prendiamo gli ultimi anni, un articolo su due che parla di scienza, naturalmente nel senso più ampio, parla di biomedicina. E se noi guardiamo l'andamento storico di questa tendenza, vediamo che a partire dagli anni 80, adesso se io ve lo mostrassi in un grafico, prima c'era la fisica, le discipline fisiche che erano piuttosto forti, e poi man mano c'è questa esplosione. Quindi quando noi oggi apriamo un giornale o ascoltiamo un telegiornale e si parla di scienza, si parla sostanzialmente di biomedicina, adesso si parla poi anche di altre cose, però questo è il tema che è diventato dominante. E l'altra cosa che volevo dire riguarda i modelli di comunicazione. Allora, c'è una famosa frase di Einstein nel 1919, quando ci fu questa spedizione che grazie a un'eclisi solare riuscì a portare quella che era considerata la prova della teoria di Einstein, e il Times in Inghilterra e il New York Times dedicarono in prima pagina un grande articolo che si intitolava Newtonian Theories Overthrown, cioè la teoria di Newton messa sotto sopra, ovviamente i giornalisti andarono da Einstein per fargli commentare questa cosa, e lui un po' spiazzato, un po' divertito, un po' ironico come sapeva essere, disse, ma a me sembra un po' strano che i quotidiani dedichino questo spazio, perché al mondo, se va bene, ci saranno sei o sette persone che sono in grado di capire questa teoria. Allora, questo però era esattamente il modello di comunicazione della scienza, uso un termine che a me non piace perché è un termine ideologico, ma che andava bene per quel periodo, divulgazione, in cui c'era una comunità di pochi eletti che avevano il sapere, e questo sapere precipitava come in un imbuto, prima a livello pedagogico, le università, le scuole superiori, l'istruzione, e poi diciamo nei media. Tant'è vero che c'era questa tradizione, che è una tradizione che risale quantomeno al Settecento, di libri come il Newtonianesimo per le dame, che erano rivolti a questo pubblico di curiosi che voleva sapere che cosa era la scienza. C'erano queste famose conferenze di grandi scienziati, ce n'è una famosissima di Faraday sulla storia di una candela, che venne replicata tantissime volte, commossa e perfino Dickens.